Cominciamo dall'ariete. Essere creativi non significa poter agire in modo incoerente o irresponsabile. Al contrario, potrete combinare creatività e professionalità in modo molto efficace. Toro, siete pronti ad assumere al più presto un ruolo di leader nella vostra comunità. Le vostre idee avranno un forte influsso su tutti. Si preannuncia anche una bella giornata di relax da passare con il vostro partner. Gemelli, il vostro desiderio è semplice. Lasciare le cose in uno stato migliore di come le avete trovate. E di sicuro ci riuscirete, anche se qualcuno non la penserà esattamente come voi, avendo un carattere un po' troppo conservativo. Cancro, una revisione del lavoro che avete recentemente portato a termine, metterà in luce certi piccoli errori. Per fortuna avrete modo di porvi facilmente rimedio a partire da domani. Leone, potreste avere delle difficoltà ad esprimere voi stessi con le parole, ma le azioni saranno di sicuro molto più chiarificatrici di qualsiasi discorso. Certo che soprattutto con il partner qualche parolina in più servirebbe. Vergine, potreste avere una tregua da qualcosa oggi, ma non illudetevi, non durerà a lungo. Se non altro avrete un'opportunità per riposarvi. A tutti i piccoli problemi di lavoro ci penserete domani. Bilancia, siete ansiosi di sapere quello che qualcun altro ha da dire riguardo a un'esperienza in cui siete stati entrambi coinvolti. Volete capire se siete stati gli unici a provare certi sentimenti? Scorpione, la vostra capacità di andare al sodo dalle questioni senza farvi distrarre da ogni inutile sovrastruttura si rivelerà preziosa non soltanto per voi, ma anche per chi vi circonda. Sagittario, siete ansiosi di passare alla fase successiva di un certo progetto. Potreste dover aspettare però che un collega ricontrolli il suo lavoro. Oggi intanto avete un po' di tempo per controllare meglio le cose. Capricorno, avete in mente un'azione piuttosto provocatoria che per il momento non volete anticipare a chi vi circonda. Volete sfruttare al massimo l'effetto sorpresa e sicuramente ci riuscirete. Acquario, fareste bene ad esplorare con un po' più di attenzione i legami che esistono tra voi e alcune persone a voi più care. Potrebbero esserci state delle evoluzioni che vi lasceranno sicuramente perplessi. Pesci, potreste trovarvi a navigare in acque pericolose oggi. Fate molta attenzione, soprattutto con i parenti, che non la smetteranno di chiedere cose a cui voi non volete rispondere. Grazie a tutti.